salve a tutte e a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento della nuova serie dei dialoghi di pandora rivista un nuovo formato un ospite in presenza ogni volta conversazioni dialoghi e approfondimenti sulle grandi trasformazioni del presente e siamo davvero felici di iniziare questo nuovo ciclo con un ospite d'eccezione luciano floridi professore di filosofia ed etica dell'informazione all'università di oxford e di sociologia della cultura e della comunicazione all'università di bologna nonché direttore del center for digital ethics con il professor floridi ma avevamo detto che ci davano del tu quindi con luciano parleremo di digitale intelligenza artificiale e di come governare e controllare questi processi ecco nei libri appunto del professor floridi luciano si affrontano appunto le trasformazioni e i cambiamenti legati appunto alla transizione digitale una transizione che non è semplicemente un cambiamento che riguarda il sistema produttivo le modi di vivere e di produrre ma anche un cambiamento concettuale ecco mi piace ricordare il libro la quarta rivoluzione in cui questi temi appunto vengono affrontati in maniera estesa approfondita ecco partirei da qui nel provare a definire quelle che sono le caratteristiche di questa rivoluzione partendo da un parallelo che viene fatto spesso quello con un'altra grande trasformazione cioè il passaggio e l'introduzione della stampa ecco secondo te secondo il tuo punto di vista queste due rivoluzioni sono delle rivoluzioni che presentano delle caratteristiche di differenze importanti quali sono queste differenze si hai ragione è un parallelo che da un lato aiuta dall'altro confonde anzitutto grazie poi per l'invito e dove che aiuta e che c'è continuità idea che questa rivoluzione digitale sia una cosa mai vista che non si sia mai presentata prima che sia una discontinuità completa assoluta una rottura con il passato ecco questo è esagerato nel senso che poi ti conti è sempre la storia umana siamo sempre noi c'è questo numeroso numero di quantitativo di fibre che nella storia unisce il nostro passato il presente futuro quindi attenzione a chi poi esagera nel momento disruptive si direbbe appunto in inglese detto questo ci sono grandi trasformazioni in corso allora il parallelo con con gutenberg con l'introduzione della stampa aiuta ma dicevo appunto poi confonde anche l'idea a seconda di come uno prende aiuta nella misura in cui oggi ovviamente siamo nella continuità che io così semplificherei ma in maniera un po brutale in tre passi abbiamo inventato modalità di registrazione della dell'informazione con l'alfabeto poi abbiamo inventato tanti modi ma soprattutto uno di disseminazione che è il libro la stampa oggi abbiamo delle tecnologie straordinarie che rappresentano soprattutto una trasformazione nella manipolazione dell'informazione è chiaro che tutto questo trascrizione registrazione in passato poi disseminazione poi manipolazione si costruiscono l'una sull'altra non c'è aschi senza l'alfabeto e allora continuità discontinuità un po tutte e due quello che l'importante è capire che in questa continuità ci sono anche dei momenti molto diversi e confondere le idee pensando a ma sai in fin dei conti è soltanto gutenberg 2.0 ecco questo vuol dire non aver capito che quello che oggi è avvenuto grazie anche al grande accumulo di dati e alla grande disseminazione dei dati oggi anche alla manipolazione automatica dei dati e la creazione di un ambiente mentre gutenberg non ha trasformato la società ma non ha creato un ambiente sociale all'interno del quale noi operavamo il digitale invece ha costruito un nuovo habitat questo se non lo si è capito si finisce per fare l'errore come vedo fare purtroppo da molti anche recentemente di pensare che la evoluzione digitale sia una rivoluzione che faccia parte di quella grande trasformazione creata dai mass media non è così non è una questione di mass media è una questione ecologica cioè di ambiente una volta capito questo allora si vede anche perché il paragone può essere almeno limitante se non fuorviante bisogna pensare in termini di ecologia di un zero sistema che è trasformato di cui l'ultima battuta quindi la trasformazione non è soltanto in termini di comunicazione ma è ontologica per dirla in maniera un po pesante cioè della natura ultima delle cose con cui abbiamo a che fare ecco infatti una frase molto pregnante che appunto spesso ritorna nelle tue lezioni nei tuoi scritti è che il digitale riontologizza il mondo il reale ecco in questo quadro l'intelligenza artificiale che oggi un tema di cui si discute molto e a cui piace ricordare l'hai dedicato anche di recente la martini lecture da qui è stato tratto anche recentemente un libro che libriccino che è uscito per buon piani insieme appunto a federico cabizza ecco su questo tema di cui si discute molto anche qui tu hai delle delle tesi appunto molto precise ovvero che l'intelligenza artificiale sia un divorzio fra agire e intelligenza ecco ci puoi spiegare in che senso anche provando a mettere a confronto questo tipo di agire cioè l'agire dell'intelligenza artificiale l'agire degli algoritmi e in un qualche modo l'agire che umano che aveva già precedentemente appunto nei secoli passati trasformato il mondo rispetto al mondo naturale ecco quali sono le differenze tra questi due tipi di agire questo è un problema enorme e anche in questo caso mi ritrovo a essere non necessariamente a tutti i costi originale ma a dover accettare il fatto che si tratta di una prospettiva meno ortodossa ecco poiché io abbia ragione o meno lo vedremo tra qualche anno in questo caso abbiamo visto appunto digitale come una rivoluzione non mass mediatica ma di tipo ambientalista ecologica in questo caso l'intelligenza artificiale come una trasformazione che ha a che fare con con l'agire non con l'intelligenza noi se guardiamo quello che abbiamo intorno a noi le cose che già funzionano machine learning natural language processing la robotica che sta un po ovunque ma dagli anni 70 nell'industria esempio automobilistica e così via sono straordinarie soluzioni per far cose al posto nostro meglio di noi spesso ma in modo privo di intelligenza così come la descriveremo noi in modo intuitivo parlando magari noi due tanto per darci degli intelligenti su youtube ma chiunque insomma chi ci sta ascoltando quell'intelligenza che è il corrispettivo positivo della stupidità poi sicuro si può essere stupidi in mille modi siamo anche intelligenti in mille modi ovviamente noi sappiamo che lo strumento ad esempio lo stesso telefonino che gioca a scacchi con me non ha nessuna forma di intelligenza eppure mi vince mi batte sempre vince sempre a meno che io finalmente non mi stanchi abbassi il livello dopo che con soddisfazione tutta umana vinco contro il mio iphone allora che cosa è che sta avvenendo stiamo in realtà separando la capacità di risolvere problemi o di avere o di trattare dei processi con successo in vista di un qualche fine che abbiamo prestabilito dalla necessità di essere intelligenti nel farlo questa cosa non è mai avvenuta nella storia dell'umanità cioè da quando abbiamo iniziato a cacciare un mammut fino all'altro ieri se facevi qualcosa a intelligenza zero facevi i pasticci e per avere successo dovevi avere un po di intelligenza magari soltanto biologica cioè magari era un cane da guardia un cane pastore oppure cose orrende della nostra storia uno schiavo una schiava ma ci voleva un po di intelligenza biologica anche le ocche del campidoglio quando urlano urlano con un po di intelligenza biologica ecco tutto questo è avvenuto nel tempo grazie a mille trasformazioni di cui sicuramente l'accumulo di enorme quantità di dati soltanto nella nostra generazione hanno reso possibile capacità di processazione dei dati costi e così via che cos'è che è avvenuto qui che questa capacità di agire oggi ha successo appunto a intelligenza zero e quindi tornando poi alla tua domanda nella seconda fase in che cos'è che si diversifica questo agire artificiale da nostro agire nella mancanza di intelligenza e allora e allora non c'è intenzionalità non c'è una contestualizzazione non c'è significato non c'è concetto di verità o falsità non c'è ad esempio un concetto di eticità dell'agire è semplicemente il frigorifero che tiene i cibi freddi ecco mutaris mutandis è lo strumento ad esempio di intelligenza artificiale che mi raccomanda il prossimo film su netflix ma non lo fa come lo farebbe magari un amico che conosce i miei gusti detto questo però il risultato può essere non distinguibile dal processo che ha portato a quel risultato e qui subentra un po' di confusione siccome c'è una indistinguibilità del risultato cioè ma in fin dei conti il mio amico mi ha suggerito esattamente lo stesso film che mi ha suggerito netflix giusto ma come c'è arrivata netflix con il suo machine learning rispetto a come c'è arrivato l'amico sono due prezzi sicuramente diversi il che vuol dire che le conseguenze anche di quella raccomandazione possono essere molto diverse fermarsi semplicemente al punto ultimo del risultato faccio un altro esempio molto banale realistico posso avere una camicia stirata oggi sul tavolo e non sapere se la stirata un robot bellissimo che hanno costruito a madrid letteralmente oppure luciano il che significa nulla dal punto di vista di che cosa c'è dietro e di cosa ci potrebbe essere dopo che cos'è che c'è anche dopo ad esempio la priorità era importante stirare questa camicia oggi oppure no chi lo ha deciso ecco non è che il robottino costruito a madrid abbia deciso che oggi la cosa più importante che devi fare stamattina è stirare quella camicia io probabilmente l'avrò deciso perché magari ce n'è bisogno e così via allora da quello che c'è a monte a quello che c'è a valle fermarsi a quello che c'è in mezzo cioè il risultato che è efficace ed efficiente questo è l'errore vuol dire non aver capito che il processo che porta a questo risultato è diverso e le conseguenze o anche se vuoi la contestualizzazione di questo risultato successivo sono completamente diverse allora è un agire per avere una terminologia un po un po semplice di tipo operazionale cioè a problema soluzione ma era il problema giusto da risolvere bisognava risolverlo oggi c'erano problemi più importanti da risolvere prima questo il povero machine learning ti darà sempre la raccomandazione di quel film non ti dice se valga la pena di guardarlo stamattina domani dopo un altro giorno oppure le conseguenze magari sul fatto che avresti potuto vedere qualcos'altro ecco su questo secondo me prenderemo un po di distanze ci stiamo arrivando purtroppo la narrativa attuale è quella di una intelligenza artificiale che unisce il biologico all'ingegneristico e crea questo matrimonio è un divorzio le conseguenze del divorzio che stiamo vedendo anche da un punto di vista etico quindi da rischi che stiamo correndo e di conseguenze non capire questo vuol dire non essere in grado di avvicinarsi alle sfide che l'intelligenza artificiale sta ponendo in modo poi che si abbia una chance anche di risolverle è come se uno avesse impostato male i termini del problema e quindi stia cercando una soluzione che il problema non necessita perché va proprio rivisto qual è il problema alla fonte allora poi si può parlare ad esempio di governance di legislazione di buona etica ma se uno ha capito bene il problema il problema è appunto un divorzio non è un matrimonio ecco appunto arriviamo al problema del di come governare questi processi di come controllare ridurre appunto questi rischi che potenzialmente possono presentarsi e possono essere anche molto molto significativi molto ingenti e tu ricordi spesso la la figura del cibernetta del di colui che in un qualche modo guida dalla direzione alla barca che chiaramente è una metafora molto antica che è una tradizione importante nella storia della filosofia della cultura occidentale che in un qualche modo è sempre stata associata anche al ruolo della politica o comunque di chi si trova nella posizione di coordinare quello che può essere del consesso sociale ecco però probabilmente anche qui abbiamo una risignificazione di questa immagine di questa metafora cosa vuol dire oggi governare questi processi cioè come si ridefinisce la governance e anche se vuoi la sovranità all'epoca della trasformazione digitale e soprattutto come rispetto a questi processi che in un qualche modo sono processi che portano con sé il rischio di marginalizzarci appunto di metterci un po' appunto ai bordi di questi processi come uomini e donne esseri umani che hanno tutte le caratteristiche che si sono andate a definire nel corso della nostra storia ecco come come si fa in un qualche modo a governare a controllare un processo che tende a appunto a renderci meno centrali meno importanti sì questa è una questione fondamentale tra l'altro sarà per quanto mi riguarda una delle questioni che definirà un po' la nostra epoca chiamiamo nostro secolo gli anni a venire cioè la governance di tutto questo che è governance del digitale ma anche di tutto quello che circonda il digitale dall'intelligenza artificiale ai social media alle grandi banche dati la internet of things che abbiamo ovunque al polso o in casa che cosa faremo con tutto questo quindi avere chiara un'idea di progetto umano quindi da realizzare attraverso la governance questo riprendendo l'immagine platonica del ciberneta vuol dire avere chiaro dove stai andando ma per avere chiaro dove vuoi dove stai andando dove vuoi arrivare avere anche le competenze tecniche per arrivarci questa cosa apro questa parentesi poi torniamo subito alla tua domanda questa cosa che la politica non debba essere tecnica io non l'ho mai tanto capita continua a non capirla bene lo capisco in termini di è politica non è tecnica cioè noi non vogliamo avere dei tecnici che facciano semplicemente un lavoro di tipo esecutivo di decisioni poi non si sa bene prese da chi perché parte del lavoro politico è anche quello di identificare le esigenze le speranze i desideri le volontà di molti e arrivare a quel momento di unificazione che con un po' di consenso riesce a mandare appunto la barca nella direzione giusta giustissimo ma lo deve fare anche sapendo bene di che cosa sta parlando cioè non è vero che allora siccome i tecnici non devono essere al potere chi è al potere non abbia competenze tecniche ecco questo secondo momento secondo me è un po' strano e allora vedere politici che passano da un argomento all'altro una cosa all'altra senza avere alcuna competenza né dell'una dell'altra questo platone credo l'avrebbe trovato veramente bizzarro perché il ciberneta conosce la barca conosce i venti sa navigare guarda le stelle e sa navigare rispetto alle stelle e a dirigere la barca lì dove vorrebbe anche con tanti compromessi buoni cioè quello che noi poi in inglese perché i compromessi hanno una parola un po' corrotta preferiamo definire come trade off benissimo ha detto tutto questo quali sono i trade off della governance oggi e qual è il progetto che vogliamo perseguire un po la mappa che stiamo cercando di avere e in che modalità poi anche di competenze serie possiamo gestire la società per andare in quella direzione al momento abbiamo un po commesso un errore grave ma non con cattiveria non è che ci sia un qualche diavolone da qualche parte chissà che conspiracy theory abbiamo come società come umanità mal compreso la rivoluzione digitale io direi negli anni 90 grosso modo e abbiamo pensato che fosse in realtà non una rivoluzione così fondamentale tipo ecologico di identità di antropologia culturale nostra di chi siamo e così via ma che in realtà fosse alla stregua importante dell'elettricità dell'acqua della luce del del gas cioè di una utility l'abbiamo lasciata crescere per poi regolamentarla dopo come si fa sempre cioè normalmente se hai una nuova utility da far crescere prima deve crescere il mercato poi si regolamenta in modo che il mercato faccia quello che fa facendolo bene siamo arrivati un po tardi perché abbiamo in realtà dato le chiavi di casa o meglio dell'infosfera ovvero di quella ecologia di cui parlavamo prima a grandi aziende che non hanno quello come fine non sta nella loro missione quella di creare l'ambiente in cui viviamo e allora c'è stato questo cattivo allineamento tra una politica che non ha capito quello che stava avvenendo e aziende che hanno dovuto anche svolgere un ruolo che non era il loro che è quello della costruzione sociale della nostra realtà a questo punto tutto questo si è ovviamente visto in una situazione macroscopica è un po esploso sotto i nostri occhi anche di chi non fa filosofia di chi non ha studiato questo dagli anni 90 o più di lì con la pandemia la pandemia ci ha dimostrato che chi ha le chiavi di casa non siamo noi basta ricordare le app e tutto questo cioè sono le grandi aziende e non ci sembra naturale che decisioni a livello nazionale o europeo debbano essere prese sottomettendole alla volontà anche buona ecco nessuna cospirateria nessuna nessun diavolone dicevo prima dall'altra parte di aziende che poi in realtà non vorrebbero neanche averla questa responsabilità allora che cos'è che si può sperare in termini di governance che ci sia non tanto un recupero perché recuperi qualcosa che avevi e qui non lo avevamo ma un un posizionamento della degli aspetti socio politici che facciano proprio anche tutto il mondo del digitale questo a livello europeo sta avvenendo giustamente lentamente perché sono operazioni da fare con molta cautela cioè non è che si regolamenta dall'oggi al domani dicendo facciamo così facciamo colà basta poco per distruggere un'industria basta pochissimo per mandare incentivi nella direzione sbagliata a spostare magari intere attività umane rovinando anche opportunità così via quindi con molta cautela ma va fatto si diceva al liceo festina lente no cioè va fatto con una certa velocità ma facendo molta attenzione a quello che si sta facendo allora con il festina lente tipico dell'europa e dell'unione stiamo arrivando a una regomentazione del digitale lo abbiamo visto con il gdpr per i dati è arrivato già con i tre acts che abbiamo visto quello sull'intelligenza artificiale sui mercati digitali e sui servizi digitali e ne arriveranno anche altri immagini ad esempio per il settore medico della salute e così via allora in questo contesto noi ci ritroviamo in una appropriazione non riappropriazione ma appropriazione di prima istanza di tutto un mondo che è cresciuto in maniera un po' troppo priva di regole di quadri di aspettative sociali e di responsabilizzazione socio politica è un po' come se noi fossimo sbarcare su un continente nuovo il digitale avessimo lasciato un po' come dire a chi lo doveva colonizzare mano libera e ci fossimo resi conti finalmente che forse bisogna cominciare anche a creare un po' di istituzioni che non possono lasciare questo se diventa un far west in cui il libero mercato fa e dispone e crea e decide di tutto e del contrario di tutto questo non è un discorso europeista a tutti i costi per far sì che le regole uberalles come dicevo regole soprattutto no vuol dire anche rendersi conto del fatto che in un contesto in cui noi abitiamo ma letteralmente spendiamo sempre più tempo passiamo sempre più tempo in questi ambienti questi ambienti non possono essere interamente lasciati a chi di questi ambienti non vuole neppure la responsabilità giustamente insomma fanno un lavoro che non vorrebbero fare noi non lo abbiamo fatto quando l'avremmo dovuto fare bisogna riallinare queste due cose e bisogna che la società e quindi la politica si metta a fare il lavoro che deve farci è la responsabilità per il mondo in cui viviamo a questo punto come ultima battuta bisogna avere un progetto dicevamo il cibernetà va ma non dove lo porta il vento e le correnti magari deve adattarsi cioè il troido ci vuole destra sinistra avanti indietro per tornare a itaca ma a itaca bisogna tornare allora magari ci vorranno tanti anni magari tante avventure ma la traiettoria resta quella di itaca se vogliamo usare questa metafora un polliceale qual è oggi secondo me il progetto anche europeo che dovremmo mettere in campo l'europa come grande luogo dove si fa incubazione di regole sociali di regole politiche ed è l'unico luogo dove questa che fa da venente da incubatore di questo movimento da ventonesimo secolo se lo si vede in questo modo ci vuole un progetto e credo che l'europa lo abbia mai capito ammetto di essere un po grillo parlante da tanto che ne parlo lo dico a tutti i costi come tanti altri non sono soltanto io ma questa unione tra il verde e il blu c'è poi una battuta un po veloce c'è tra la necessità di mettere le possibilità e i problemi che i nostri ambienti hanno tutti gli ambienti quindi il verde non soltanto il verde dei prati ma il verde anche dell'ambiente urbano sociale politico economico e quindi anche di tutte le giustizie che ci sono economiche politiche urbane sociali con il digitale cioè il blu delle tecnologie digitali mettere queste due cose insieme in un progetto che faccia bene al verde al blu perché li mettiamo insieme bene questo mi sembra un grande progetto che l'europa può perseguire con successo da incubatore o incubatrice di regole politico sociale tutto questo certo da una una visione un po a proposito di colori un po rosea di come stiamo messi di come stiamo andando è più una visione normativa che descrittiva e chiudo qua cioè è un po come dovrebbero andare le cose piuttosto di come stanno veramente andando ma una volta che uno ha capito da cibernetta come dovrebbero andare poi può anche adeguare la rotta a dove dovremmo andare piuttosto a quello dove stiamo andando lasciandoci un po alle correnti il populismo è un po una corrente che ci porta lì dove è più facile andare bisognerebbe resistere e tornare a fare un po politica da un punto di vista più normativo appunto su un progetto umano che faccia bene all'ambiente tutti al mondo della produzione perché bisogna creare ricchezza e alla società che ospita gli uni gli altri la frustrazione che si può fare e non lo stiamo facendo peraltro tu hai avuto modo di seguire da vicino questi processi parlavi dell'europa tu sei stato presente in molte sedi in un qualche modo si è contribuito a definire un po quelle che sono stati alcuni dei principi dell'approccio europeo e hai avuto anche modo diciamo di stare anche dall'altra parte diciamo della barricata cioè è stato consulente di aziende in una commissione importante sul diritto all'oblio per per google quindi su questo sicuramente il tuo punto di vista è particolarmente prezioso ecco chiaramente l'europa sta cercando di definire il suo punto di vista in un contesto che è dominato da grandi attori in cui protagonisti assoluti sono stati uniti e cina però è molto interessante appunto quello che dici sulla possibilità di definire una via per l'europa che abbia determinate caratteristiche tipicità in questo percorso passerei adesso diciamo a un livello diverso cioè a livello appunto dei territori delle realtà più locali ecco cosa può fare diciamo un ecosistema territoriale una città una regione che voglia in un qualche modo cercare di inserirsi in maniera utile proficua all'interno di questi processi cosa serve quali sono da un lato gli ingredienti per poter appunto provare a elaborare una via da un punto di vista sicuramente economico ma anche rispetto a questo tema della sperimentazione della governance di cui parlavamo appunto sul digitale e cosa bisognerebbe fare appunto per questo ipotetico territorio che volesse trarre il meglio da questo tipo di processi ma questa della territorialità della governance è molto interessante come tema perché siccome siamo stati un po' abituati negli ultimi anni a pensare a grande globalizzazione soltanto mettendoci tutti insieme a livello di classiche nazioni unite che poi non è vero ci mancherebbe ma possiamo fare la differenza all'improvviso è come se avessimo per molto tempo svuotato di potenzialità di impatto e di cambiamento le realtà locali anche piccole magari cittadine regionali urbane allora qui ci sono diverse cose che non stanno così che vanno messe un po' di nuovo in discussione e raddrizzate nel senso capire guarda che in realtà il mondo è un po' diverso numero uno anzitutto noi viviamo sempre di più in grandi città cioè se la differenza ad esempio negli Stati Uniti verrà fatta in termini di cambiamento climatico sarà stata fatta perché città come Los Angeles hanno deciso di andare in una direzione diversa da quello che magari qualche tempo fa un Trump o qualsiasi avesse deciso Washington adesso vado un po' a memoria ma tra il 70 e l'80% della popolazione mondiale tra pochi anni vivrà in enormi strutture urbane da decine di milioni di abitanti allora da San Paolo a Tokyo, da Los Angeles ad altre città enormi fare una differenza a livello di città vuol dire fare una differenza a livello di intere nazioni che tu potresti immaginare da 6, 10, 15 milioni insomma San Paolo ha più cittadini o cittadine magari di qualche paese scandinavo a questo punto dice ma sai avviene soltanto a San Paolo, avviene soltanto a Los Angeles vuol dire non aver capito dove siamo arrivati con l'urbanizzazione, con il sviluppo poi ovviamente questo genera enormi questioni di complessità che magari possiamo discutere un'altra volta ma questo per rimettere un po' in ordine dov'è che l'azione sta veramente avvenendo poi c'è un'altra questione fondamentale, l'impatto della politica si sente in maniera sempre più vicina tanto più tu ti avvicini letteralmente al tuo quartiere dal momento in cui cambiano le direzioni stradali, di dove vivi, fino a quartiere, città, regione e così via l'impatto della politica è sicuramente molto significativo ma la percezione immediata, ecco chiaramente facciamo un esempio classico che ricorderà qualcosa a tutti quelli che ci ascoltano l'arrivo dell'euro sicuramente non è stato un impatto cittadino ed è stato enorme ma poi lì dove l'hai vissuto, dove l'hai sentito era nei prezzi del negozio sotto casa capire dov'è l'impatto vuol dire anche capire dov'è l'interesse cioè all'improvviso capisci che per la cittadinanza sentire l'impatto di politiche buone o cattive vuol dire avere anche l'interesse nel cambiarle e siccome questo è anche una partenza dal basso, di coordinamento dal basso c'è molto che si può fare è molto più facile convincere o mobilitare, sensibilizzare una cittadinanza che vede sulla propria pelle tutti i giorni questo cambiamento o quel cambiamento piuttosto che grandi massimi sistemi su come dovrebbe essere cambiata la politica a livello ad esempio europeo che lascia l'individuo forse un po' distante a questo punto rimettendo qualche elemento e qualche variabile diciamo nella giusta ottica che cosa si può fare ecco si può sperimentare moltissimo e si può anche cominciare nel piccolo a vedere soluzioni che possono eventualmente scale up questo mi ricorda un po' un paradosso perché quando noi parliamo nel mondo aziendale c'è sempre una grande enfasi io non vado al convegno dove ci sia qualcuno che a un certo punto ha momenti lirici sulla start up la start up di qua, la start up piccolo è bello, piccolo si cresce poi però quando si parla di politica ah no no globalizzazione soltanto è come se la politica avesse soltanto grandi aziende non è così anche la politica nasce con la start up cioè con un'iniziativa piccola che cresce che trova anche la giusta ecologia il giusto sistema che poi è fatto anche di molte altre piccole realtà questa crescita dal basso verso l'alto deve essere facilitata, deve essere potenziata allora la politica è anche un'interfaccia che a livello urbano, cittadino, regionale, nazionale sovranazionale ad esempio in termini di Europa è anche un'interfaccia tra qualcosa e qualcos'altro questo lavoro dell'interfaccia della politica non è soltanto di traduzione ma anche di facilitazione se questo avvenisse allora visto che siamo anche in Italia e al momento a Bologna si può immaginare ad esempio una realtà bolognese che sia non soltanto buona per Bologna ma buona anche per la regione, buona anche per l'Italia buona per il mondo nel senso come esempio di come si possono fare le cose recentemente ho studiato un paio di applicazioni di open AI cioè uso aperto a tutte le cittadine e cittadini per consultare, migliorare e anche dare il proprio contributo dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ad Amsterdam e Helsinki in gemellaggio piccole cose nel senso l'intelligenza artificiale usata per il parcheggio per la restituzione dei libri in biblioteca comunale per sapere dove ci sono le buche sulle strade niente di fantascienza detto questo, intelligenza artificiale che funziona machine learning poi in gran parte su dati acquisiti tutto in trasparenza che raccoglie opinioni da parte del pubblico si può migliorare ci sono moltissime cose che magari non andrebbero fatte in quel modo ma in un altro ma che non sia la strada giusta questo mi sembra straordinario argomentarlo è lì che fa la differenza perché poi se poi ad Amsterdam e Helsinki si unisce anche Parigi, Bologna, Berlino, Barcellona le solite sospette diciamo così in Europa pian piano tu vedi che si sta crescendo una rete e così via ecco questo è un modo da ventonesimo secolo di ragionare cioè che la rete si crei attraverso le interazioni tra buone prassi e che queste buone prassi poi letteralmente da start up possono essere poi in scale up e possono diventare tra virgolette le grandi aziende politiche e passami un po' questa analogia del dopodomani ma perché può avvenire a livello di Facebook e non può avvenire in termini di grande iniziativa presa a Bologna per fare andare le cose da un punto di sociale e politico nella direzione giusta questo non mi è chiaro se non da un punto di vista puramente retorico cioè non c'è la volontà di vedere le cose in questo modo si può fare anche in questo modo ed è la ragione per cui poi la politica oggi ha molta più presa sul territorio letteralmente quello che è vicino alla persona piuttosto che nei massimi sistemi oggi c'è molto più interesse nella votazione ad esempio per il sindaco di quanto non ci sia per i grandi partiti che magari finiscono a Roma o addirittura per le elezioni europee non è un caso perché il sindaco poi o la persona che farà la sindaca se si può dire in italiano la donna o l'uomo che finirà per avere quell'incarico farà la differenza di tutti i giorni e quindi lo vuoi sapere chi andrà lì e vuoi andare a votare detto questo non è che sia tutto rodo e fiori ci mancherebbe ci sono moltissimi problemi abbiamo visto anche alcune elezioni recenti una scarsa presenza o una presenza che dovrebbe essere di lungo superiore ma se è bassa lì è ancora più bassa altrove allora rimobilitare la politica a livello locale secondo me è un modo per innescare questo processo di start up, scale up grande movimento internazionale molto interessante questo approccio della sperimentazione anche istituzionale applicata alla politica e peraltro appunto come Pandora rivista noi abbiamo sempre provato a insistere su un tema che non coincide ma è collegato a questo cioè l'importanza anche di avere un ecosistema culturale in cui tutti questi pezzi di sperimentazione ma anche di dibattito di discussione possano collegarsi perché appunto se si devono affrontare problemi che presentano una complessità importante abbiamo anche bisogno di un spazio di modalità di riflessione che siano ampi partecipati democratici ma anche all'altezza della complessità dei problemi ecco proprio questo ci porta all'ultima domanda cioè in un qualche modo al ruolo del pensiero e poi perché no anche in particolare della filosofia nel pensare questo insieme di processi e di cambiamenti proprio appunto abbiamo visto anche in questa conversazione quale sia l'importanza delle sfide quale sia la posta in gioco e questo farebbe pensare quanto sia importante avere una capacità diffusa di pensare quello che sta avvenendo anche per poterlo orientare governare e indirizzare ecco ma però al tempo stesso ci sono certi segnali che sembrano far pensare che lo spazio per il pensiero venga per certi aspetti eroso pensiamo a il calo dell'attenzione che in qualche modo viene osservato da tante parti la difficoltà anche diciamo a alla lettura al pensiero all'elaborazione complessa ecco secondo te queste sono percezioni esagerate ci sono questi rischi c'è questo spazio del pensiero e come eventualmente si può fare per conservarlo e accrescerlo ma credo che ci sia in realtà concordo un enorme rischio e a volte una realtà che è fatta più di distrazione che di riflessione distrazione che è dovuta anche a una vita un po' più comoda a problemi che possono essere pressanti ma non violentemente pressanti che possono essere rimandati che qualcosa non debba essere risolto oggi perché si può fare domani e domani lo si potrà fare dopo domani quindi la distrazione credo che sia forse il guaio peggiore che è anche quindi una questione di attenzione ma non soltanto non soltanto quindi mancanza di focalizzazione sui problemi ma la presenza costante di qualcosa che ti porta a pensare ad altro a pensare che altre questioni siano oggi più pressanti invece di altre è un po' quello in altri contesti piace chiamare lo scandalo delle priorità cioè non perché qualcosa si possa o non si possa fare ma perché nulla in generale è in assoluto fattibile o non fattibile se non rispetta qualcos'altro cioè devo fare questa cosa oppure no ma rispetta qualcos'altro che potresti fare o non fare allora questa questione di priorità di distrazione di disattenzione questo è sicuramente un problema che abbiamo non è un problema nuovo è che forse è stato ingigantito anche da una società che è molto più comoda molto meno problematica per tantissime persone ma se leggiamo i classici è da sempre che i classici si lamentano e quando la società non è stata distratta e ha fatto attenzione poi a Socrate gli ha fatto mangiare la cicuta quindi attenzione appunto a pensare che quanto fosse meglio quanto fosse bello il tempo passato non è proprio così però sicuramente le occasioni per distrarsi per essere meno attenti sono molto più presenti ci tentano di più certamente c'è però detto questo un'enorme necessità e quindi anche un enorme spazio per la riflessione riflessione però che non può essere soltanto critica quello che a me dispiace forse vedere ma parlo anche se vuoi da una persona che ha letto poche cose che ha capito un angoletto del mondo chissà come stanno veramente la realtà da chi invece ne sa di più diciamo per quello spicchio di realtà che io ho capito a me sembra che la seconda metà del novecento ma anche buona parte del nostro secolo per ora gli ultimi diciamo così cinquant'anni siano stati cinquant'anni in cui anche gli intellettuali abbiamo fatto tanta critica e poca costruzione cioè si siano accontentati di dire come e quando e perché le cose non andassero o non stessero andando nella direzione giusta ma ci hanno dato veramente poco in termini di dire allora questa è l'alternativa questo secondo me è quello di cui oggi abbiamo disperato bisogno cioè un pensiero costruttivo critico certamente perché questa è la prima parte cioè prima devi capire capire bene capire una comprensione che controlla quello che ha capito dall'interno vedi appunto i politici che sanno quello di cui parlano che sanno quello di cui vanno a discutere su cui mettono le mani tanto per parlare dei politici ma anche i nostri scienziati i nostri esperti ma dopo la comprensione e il controllo c'è la costruzione se il pensiero critico è soltanto un pensiero di tipo distruttivo che ti dice soltanto quello che non è andato bene nelle questioni di gender ad esempio nelle questioni sociali nelle questioni ambientali quello che ti dice no a questo no a quest'altro perché questo problema è per quest'altro problema e non ti dice mai e allora che facciamo qual è l'alternativa ecco questa secondo me è una filosofia fatta a metà non è cattiva ma è monca è correre su una gamba sola ci serve un'altra gamba e qual è l'altra gamba quella che tutti i classi guarda tutti da quello che ci racconta Platone di Socrate quindi da Socrate in poi hanno sempre fatto propositiva ci hanno detto guarda bisognerebbe fare così eccola poi si può essere in disaccordo sulla ricetta sulla propositità sulle politiche anche o sulla sull'impianto etico sul progetto umano che vogliamo mettere a terra ma che ce ne sia bisogno di questo momento costruttivo è fondamentale allora qui è come se noi ci ritrovassimo con una chiara comprensione di quello che non vogliamo e quello che non vogliamo più avere diciamo di una prima metà del Novecento che ci ha detto mai più e una seconda metà del Novecento che abbia passato il suo tempo a criticare giustamente a destrutturizzare a decostruire quello che è stato diciamo il passato oggi veramente si sente un disperato bisogno di un po' di quello che a me piace chiamare design concettuale cioè che veda i problemi li capisca e poi ci dica anche allora che faccio quali sono le soluzioni a questo punto se noi riuscissimo a mettere in campo qualcosa che non distrae più e non critica soltanto ma costruisce io credo che l'interesse e il consenso sarebbe più facile e si potrebbe raccogliere molto di più e che al momento non abbiamo delle proposte concrete che possono entusiasmare che possano dire alle persone guarda che questa cosa si può fare la possiamo fare insieme se ci mettiamo insieme e tu molli un po' del tuo e io mollo un po' del mio siamo tutte due due buone volontà ma non vogliamo al 100% la tua e la mia perché altrimenti non ci rendiamo mai d'accordo allora questa operazione è semplice di salvare il pianeta che non è una cosa piccola no sai fin dei conti oppure di salvare la società che stiamo costruendo di cambiare il capitalismo di rendere esempio un capitalismo non del consumo ma della cura cioè tutte cose gigantesche che dovrebbero entusiasmare motivare come grandi grandi chiamate all'azione la società contemporanea questo diventerebbe concreto allora tornando a quello dicevi prima anche partendo letteralmente dal tessuto urbano ci guarda che oggi possiamo cambiare questa cosa vota per questo sindaca o secondo sindaco perché questo farà la differenza da lì in poi diventa tutto un momento di soddisfazione nel vedere le cose che pian piano vanno nella direzione giusta ma serve una filosofia che la smetta di criticare soltanto io tutte le volte che sento dire che la filosofia è l'amore per le domande mi viene voglia di me ne ha le mani non è l'amore per le domande è l'amore per le domande e le risposte perché senza le risposte non c'è Platone non c'è Aristotele non c'è tutto quello che segue che ci permette con quell'apparato concettuale di riuscire anche a capire meglio il presente per mandarlo nella direzione giusta come dicevamo prima all'inizio il Ciberneta non gestisce soltanto la barca ha un progetto lui vuole tornare a Itaga non capire qual è la nostra Itaga vuol dire non avere chiaro che cos'è che ti motiva per 10 anni con tutte le avventure possibili per tornare lì dove volevi andare questo a mio avviso oggi come pensiero anche politico è il grande deficit che abbiamo una progettualità che motivi in maniera anche entusiasmante soprattutto chi di entusiasmo ancora può permettersi un po' il lusso che sono le generazioni un po' più giovani troppo cinismo troppa critica troppa mancanza di costruzione se avessimo qualcosa di più allora io credo che avremmo una chance in più di salvare Capra e Cowra che è il pianeta e noi che ci avviamo viviamo sopra grazie davvero per queste ultime considerazioni così interessanti ma grazie ovviamente per tutto per il tuo tempo e grazie a chi ci ha seguito in questo diallo grazie a voi grazie per aver guardato questo video e se l'avete apprezzato e se trovate interessante il lavoro di Pandora rivista potete mettere like al video qui sotto potete iscrivervi al canale YouTube in modo da essere aggiornati su tutti i nuovi aggiornamenti su tutti i nuovi video e contenuti che verranno pubblicati ed è anche un modo per sostenere il progetto grazie a voi